Padovani, un secondo tempo completamente diverso rispetto al primo, forse il tuo gol in apertura ha un po' spianato la strada verso una partita che è complicata anche dal campo se vogliamo. Sì, sicuramente, oggi il campo era impraticabile, dopo i primi 20 minuti non si poteva giocare più e quindi abbiamo fatto fatica. Al secondo tempo abbiamo giocato più all'attacco, sulle respinte e quindi ci ha favorito un pochettino. Poi il primo gol è venuto proprio su una palla lunga, che mi ha favorito perché l'avversario in velocità era molto più veloce. Siamo contenti perché ci servivano i tre punti e abbiamo fatti, gioco, non gioco, serviva quello e siamo tutti contenti. La prima vittoria del 2017, sorpasso sul Vivi Alto Tevere Sansepolcro, adesso si va a Muravera, però per una trasferta a Sardegna non ha portato tanta fortuna la Vezzano, perlomeno nel girone di andata. Nel girone di andata no, infatti ci dovremmo rifare e ci rifaremo sicuramente perché stiamo lavorando bene, con lo spirito giusto e speriamo di rifarci domenica perché andremo lì sicuramente per prendere i tre punti.